Giornata da dimenticare, la dodicesima per le formazioni irpine impegnate in eccellenza. Per la prima volta in stagione le tre squadre avellinesi presenti nel massimo campionato regionale sono uscite tutte sconfitte. Il Cervinara di Pasquale Ferraro perde a sorpresa contro il San Vito Positano, con la formazione caudina che ha avuto da recriminare per un rigore non assegnato dal direttore di gara. La grande delusa però è il San Tommaso. I ragazzi allenati da Andrea Ceramella hanno disputato una delle migliori gare dall'inizio della stagione, andando per due volte in doppio vantaggio. Un'ingenuità di pingue è poi costata l'espulsione del calciatore e del calcio di rigore che ha dato in là alla rimonta del Sorrento. La partita per la clonaca è terminata 5-3 in favore dei costieri. Anche il solo fresh è sconfitto contro il Faiano sotto i colpi del capo cannoniere del girone B di eccellenza, Manzur. In promozione invece il big match rocambolesco tra Virtus Avellino e Sporting a Cadia lo porta a casa la formazione allenata da Rino Criscitiello. I bianco-verdi continuano la scalata portando a 10 le vittorie in campionato. Continua però anche l'inseguimento delle cranese che vince anche contro il Siconolfi e si mantiene a tre lunghezze dalla capolista. Il Paulisi grazie alla vittoria sul Miscano aggancia la Cadia mentre il Serino vincendo contro l'Ariano ha conquistato la quinta posizione in solitaria. In zona salvezza vittoria importante per il San Martino che accorcia le distanze su FC Avellino, Siconolfi e Miscano.